Nonostante diversi territori del Cilento registrino zero contagi, negli ultimi giorni alcuni casi di positività al Covid-19 sono stati riscontrati nei comuni di Castelnuovo Cilento o Mignano Cilento, Casalvelino Marina. Due le attività chiuse nel comune costiero di Casalvelino in via precauzionale e una a Vallo della Lucania, i proprietari di propria iniziativa hanno deciso di sospendere in maniera temporanea e fino alla comunicazione dei risultati dei tamponi da parte dell'Asla di Salerno le proprie attività commerciali. Da Palazzo di Città invece ci tengono a precisare che i casi di contagio comunicati dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asla di Salerno sono due, mentre nove sono le persone in quarantena e sette i cittadini posti in isolamento per chieda contatto con un positivo. Anche il sindaco di Salento, Gabriele De Marco, ha chiesto ai propri concittadini prudenza, bisogna fare ancora sacrifici poiché il virus bussa un'altra volta alle nostre porte, ha detto il sindaco. Abbiamo infatti alcuni casi nei paesi vicini e alcune quarantene anche nel nostro comune, dunque teniamo ancora le mascherine e rispettiamo le regole di distanziamento e assembramento. E soprattutto, ribadisce il primo cittadino De Marco, vacciniamoci. Ricordo che domenica 11 al Palazzetto dello Sport di Omignano ci sarà il richiamo vaccinale.